Sua Santità Papa Francesco ha il suo bel Green Pass. Di recente anche il Vaticano è stato dotato di questo certificato, di questa certificazione che in qualche modo, che in qualche maniera va a essere fornito in chi viene vaccinato. Anche Papa Francesco è stato vaccinato, ha preso infatti entrambe le dosi di vaccino anti-Covid e anche lui, da come si legge sul web di oggi, 9 agosto 2021, ha il suo bel Green Pass, ha la sua bella certificazione verde. È importante avere questo Green Pass per avere più libertà, perché si può andare in cinema, nei teatri, nei musei, si può andare nei ristoranti, nei bar. Chi è sprovvisto di Green Pass vi ricordo che dovrà farsi tamponare, cioè praticamente si dovrà andare a sottoporre a tampone. Quindi dovrà probabilmente spendere dei soldi. Va bene, questo dunque è quanto. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi, cari utenti di YouTube. Iscrivetevi al canale che si intitola Conoscitore Italiano, o meglio Narrato Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti e al prossimo video.